Le dichiarazioni della donna, che vuote il sacco per garantire un futuro migliore alla figlia minorenne, entrano per la prima volta in un processo. Si tratta di quello che vede imputati Angelo Galatolo e Franco Mineo, ex deputato regionale di Grande Sud, accusato di intestazione fittizia di beni aggravata, peculato, malversazione ed usura. Mineo, secondo i PM, avrebbe fatto da prestanome a Galatolo, esponente dell'omonima famiglia mafiosa dell'Acqua Santa, al quale avrebbe versato gli affitti riscossi in alcuni locali commerciali. Mio padre comandava dal carcere, attraverso segni convenzionali ci diceva cosa dovevamo fare, ha detto la figlia del boss condannato per l'omicidio del generale dalla chiesa e coinvolto anche nell'inchiesta sul fallito attentato della daura Giovanni Falcone. Mio padre impartiva le sue direttive durante i colloqui, faceva pure telefonate dal carcere per parlare con i suoi familiari. Vivevano tutti nello stesso palazzo, quindi bastava parlasse con uno che parlava con tutti. Ho passato soldi di mio padre a Gaetano Galatolo e a suo figlio Angelo, ha detto la donna. Questi soldi erano in parte di mio padre e in parte della famiglia mafiosa. Sia Gaetano che Angelo Galatolo tenevano rapporti con mio padre sino allo scorso anno. Il PM ha fatto alla collaboratrice domande anche sugli affari del clan, capace di investire fiumi di denaro. La direzione investigativa antimafia nei mesi scorsi, su richiesta della procura di Palermo, ha disposto il sequestro preventivo di alcuni locali di proprietà di Mineo che ospitano attività commerciali. Si tratta del bar Nuove Sedra, di una merceria e del negozio di avviamento Vegard. Tutti gli immobili si trovano nel quartiere dell'Acqua Santa, quello da cui proviene il politico che ha respinto sempre ogni accusa. Grazie a tutti.